Il messaggio ovviamente è un messaggio di antispecismo, quindi cercare di avere un rapporto diverso, comprendere che gli animali sono esseri viventi, che hanno dei diritti, che dovremmo rispettarli, che dobbiamo in assoluto cambiare il nostro rapporto con loro e soprattutto anche quello di mandare un messaggio a riguardo alla cucina vegetale, cioè iniziare a pensare che possiamo cambiare. Nasce così MuschioFest, una due giorni dedicata all'antispecismo, al mondo degli animali e alla cucina vegetale, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio ad Arezzo, dalle 15.30 alle 21, nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri. Il programma è molto vario, quindi abbiamo presentazioni di libri, c'è la presentazione del libro edito da Cronache e ribelli, di Zanne, di cui ho curato l'edizione, che è un libro che parla degli animali che si ribellano all'uomo. Poi c'è un libro di cucina vegetale, cucina vegetale che spacca. Parliamo della campagna di sensibilizzazione per salvare gli anfibi, Rospobufobufo. Ospitiamo un rifugio santuario, Agripank, che ci racconterà un po' che cosa sono i rifugi, come funzionano. Poi ci sono due documentari, ad esempio c'è sia Food for Profit, che è il documentario che quest'anno ha girato tantissimo, se ne è parlato molto, e poi c'è On the Wild Side, che è un documentario che analizza nel mondo il rapporto tra l'uomo e la natura, e la fauna selvatica, andando a vedere che cosa significa la caccia, cioè che cos'è la caccia e quanto appunto impatto ha l'uccisione degli animali. In programma anche due merende, ovviamente completamente vegetali. Ci sono dei locali aretini che hanno deciso di darci una mano, quindi il Sarma, Bistrò e Pangea Food, e quindi faremo dei piccoli aperitivi offerti in modo che le persone possano iniziare ad avvicinarsi a questo, provare insomma. Quindi la nostra speranza infatti è quella che ci siano molte persone onnivore che vogliono avvicinarsi, vogliono fare questa prova.